Salve a tutti, benvenuti all'ISE 2014, io sono Francesco Maffei da KRAI. Qua quest'anno noi presentiamo due novità, una è la nuova famiglia di diffusori Tornado, dove abbiamo il nuovo diffusore che integra i led RGB, per cui audio e luci insieme, passivo 832 ohm tradizionale 2 pollici e da incasso a soffitto. Una delle novità più interessanti è che tutti questi prodotti possono diventare amplificati semplicemente plaggando un piccolo amplificatore a 24V dentro il diffusore, per cui manteniamo il grado IP, sono utilizzabili all'esterno e in questa maniera è convertibile con un semplice gesto. Tutti questi diffusori sono IP54, possono essere utilizzati all'esterno e sono combinabili con tutti i nostri amplificatori e con tutti i nostri subwoofer. Un'altra novità che stiamo presentando qua sono i due nuovi amplificatori professionali montabili a recchie che abbiamo. Come vedete davanti c'è un touchscreen che permette di configurare tutti i comandi del DSP interno. Dentro c'è un DSP interno, 4 in, 4 out, che permette processamento, delay, dinamiche ed è utilizzabile anche in modalità automixer, piccolo mixer, per cui ci permette, avendo 4 ingressi configurabili mic on linea, di coprire tutte le piccole e medie installazioni con un device solo, che vi permette di evitare mixer, che vi permette di evitare processori esterni, linee di ritardo e quant'altro possa servire. Ovviamente anche qua tutti i preset per i diffusori KRI sono già a bordo, per permetterne una facile configurazione e un'integrazione con il più semplice possibile. Grazie mille a tutti.